La storia delle donne etrusche era sicuramente più vicina alla cultura moderna di quanto lo fosse nel mondo latino e greco. Questo è dimostrato da molti documenti archeologici a partire dagli affreschi parietali delle tombe di Tarquinia. I testi etruschi ci conservano molti nomi femminili e pare significativo che le formule onomastiche fossero comprensive del prenome delle donne. Il prenome è infatti espressione dell'individualità e, ad esempio nelle iscrizioni latine, non era consentito che le donne lo inserissero. Nelle iscrizioni funerarie di età ellenistica, quando i documenti scritti sono in quantità maggiore, emerge tuttavia un dato piuttosto contrastante con questo quadro. Nelle iscrizioni funerarie, soprattutto quelle che rimangono all'interno della visibilità familiare come le urne, l'onomastica femminile spesso era priva di prenomi. Le donne, quindi, venivano identificate soltanto dal gentilizio e dal nome del marito accompagnato eventualmente dal termine puia, che significa moglie. Così la donna perdeva nel ricordo postumo la sua connotazione individuale e veniva identificata in quanto moglie oppure madre, come suggerisce la diffusa pratica del metronimico. Il caso dell'urna funeraria intravertino da Casalta di Lucignano ci documenta una donna identificata dall'iscrizione come l'arthria spurinei della tetinei. Qui abbiamo uno dei rari casi di presenza del prenome, identificato nell'abbreviazione L puntata che sta per l'arthria e, come ci aspetteremo, la connotazione del gentilizio paterno spurinei e materno tetinei, entrambi alla forma femminile. Nel caso di spurinei, la terminazione nei è il corrispettivo femminile del maschile na. Nella lingua etrusca non è generalmente attestata la distinzione di genere, ad eccezione appunto dei nomi di persona.